Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Villa Rosanna era una casa di riposo per anziani, oggi ribattezzata dalla cronaca La Casa degli Orrori, per riferirsi ai maltrattamenti subiti dagli ospiti della struttura. Situato in uno dei centri balneari più rinomati della provincia di Trapani, a Castellammare del Golfo, Villa Rosanna si sviluppa su due appartamenti comunicanti al quarto piano di uno stabile circondato dal verde. La pensione ospitava sia anziani autosufficienti, sia invalidi, alloggiati in una zona separata dalla comunità. Al vertice dell'organigramma della struttura si posizionava il direttore Matteo Cerni e a seguire la vice direttrice, la sua compagna, Rosanna Galatioto. Nella casa di riposo lavoravano altri sei operatori che si occupavano delle pulizie, della cucina e di fornire assistenza ai 15 anziani alloggiati. In media le retribuzioni percepite dai dipendenti si aggiravano intorno agli 800 euro, importo che corrispondeva alla retta mensile di base sostenuta dagli ospiti della struttura. In realtà i familiari dei degenti arrivavano a pagare fino a 1300 euro al mese per coprire, in teoria, le spese necessarie all'acquisto delle medicine. Tuttavia quell'apparente oasi del benessere che accoglieva i loro cari con le rispettive fragilità si è rivelata un miraggio illusorio. Innanzitutto gli anziani di Villa Rosanna non venivano lavati adeguatamente, per provvedere alla loro igiene veniva utilizzato un secchio, lo stesso adoperato per pulire gli ambienti della casa di riposo. Le spugne scarseggiavano e venivano usate su tutti gli ospiti senza nemmeno cambiare l'acqua tra un paziente e l'altro. Dunque la stessa acqua e le stesse spugne strofinate sia sul viso sia nelle parti intime, per un totale di 15 anziani. A nulla sono valsere la mentele di una donna che accusava continui bruciori intimi e io posso ben capire il disagio. All'operatrice che faceva richiesta di un detergente intimo delicato veniva fornito il solito bagno schiuma, un prodotto inadatto, anzi ancora più dannoso per chi manifesta fastidi di questo tipo. Un'altra operatrice sostiene di aver segnalato il problema a un carabiniere che si recava spesso a fare colazione nel bar di suo marito. Lo avrebbero invitato a dare un'occhiata alla pensione percependo che qualcosa non andava ma la sua richiesta è caduta nel vuoto. Qualcun altro però per fortuna qualcosa fa. Nathalie Coppola, un'altra operatrice della casa di riposo, ha notato che alcuni anziani riportano dei lividi alle gambe sul volto, persino sugli occhi. Quando Nathalie li interroga sull'accaduto, la paura prende il sopravvento sui pazienti, preferiscono inventare delle scuse, raccontare che avevano sbattuto da qualche parte o erano caduti. Ma il corpo della novantenne Saralabita rappresenta la più lampante e smentita delle versioni mendaci fornite. Le chimosi che si evidenziano sui suoi arti inferiori e superiori sono davvero troppe. Nathalie Coppola l'è immortale in alcune foto, testimonianza inconfutabile della condizione fisica della donna. Poi l'operatrice Gabriella Galante si reca a sforgere denuncia. Siamo nel 2017. Le dichiarazioni rilasciate da Gabriella e le fotografie presentate portano gli inquirenti a eseguire intercettazioni, sia ambientali che video. La talicopola collabora piazzando gli strumenti appositi, ma stupisce che abbia lavorato in quella casa di riposo per circa 15 mesi senza battere ciglio prima di allarmarsi. Di certo temeva di perdere il lavoro e quindi lo stipendio, così come tante altre operatrici. Il personale non aveva mai occasione di rimanere solo con i familiari degli anziani. Non trovava il modo di spiegar loro la gravità della situazione e convincerli a ricoverare altrove i propri parenti. Ma ora l'attività investigativa fa il suo corso, giungendo all'incriminazione e all'arresto di Matteo Cerni, il direttore della compagna Rosanna Galatioto e di due operatrici. Anna Maria Bosco e Maria Antonietta Rizzo, detta Marianna. Tutti gli imputati sono accusati di maltrattamenti, minacce e violenze esercitate contro vittime anziane, accanendosi con particolare crudeltà sulla novantenne Sara Labita. Le azioni rivolte contro la donna nello specifico configurano i reati di sequestro di persona e tortura. La paziente era emiplegica, uno dei lati del suo corpo era paralizzato. Lei comprendeva ciò che le dicevano e sapeva anche comunicare, tuttavia parlava poco. Non faceva richieste e non si lamentava perché era totalmente terrorizzata. Sapeva che se avesse parlato le avrebbero fatto ancora più male. Inizia a raccontare soltanto quando la polizia interviene e si sente al sicuro. Sara era l'unica a venire addirittura immobilizzata dagli imputati. La legavano alle sbarre del letto durante la notte e alla sedia a rotelle durante il giorno, quotidianamente. La vice direttrice Rosanna Galatioto diceva alle operatrici che era necessario legare la signora Sara perché si faceva del male da sola volontariamente. Le operatrici non coinvolte nelle accuse in questo processo non avevano mai visto la paziente slegata. Quindi nemmeno potevano sapere se l'affermazione fatta da Rosanna corrispondesse al vero. Quando qualche operatrice della struttura evitava di immobilizzarla, Matteo Cerni e Rosanna Galatioto si inalberavano all'istante. Volevano vedere la signora l'abita sempre e solo legata. La donna che versava in condizioni di salute gravi avrebbe dovuto essere ospitata in una struttura assistenziale più attrezzata di Villa Rosanna, adatta alla gestione di casi complessi e dotata di personale specializzato. La domanda dunque sorge spontanea. Perché la labita si trovava in quella casa di riposo? La figlia di Sara sostiene che l'aveva portata a Villa Rosanna perché conosceva la vice direttrice, Rosanna Galatioto, e si fidava di lei. La donna l'aveva vista crescere da bambina, erano vicine di casa, dunque si era affidata a Rosanna perché è convinta della cura e dell'affetto che avrebbe riservato a sua madre. La signora Sara non voleva essere toccata da estranei, ciononostante sua nipote prima del ricovero a Villa Rosanna aveva assunto una badante che si occupasse a lei la mattina e il pomeriggio. Questa collaborazione dura sei mesi. Tuttavia anche la sera la ragazza faticava a essere presente per sua nonna, specialmente nell'ultimo periodo perché lavorava. Dunque Sara si sentiva sola, abbandonata. A questo punto la figlia della donna aveva preso in mano la situazione, portandola a casa con sé. Era trascorso un altro mese e mezzo, tempo sufficiente perché tutti si rendessero conto che era impossibile prendersi cura di Sara in modo adeguato. La figlia di Sara tra l'altro sottolinea che anche lei aveva problemi di salute. Ormai non riusciva più neanche a sollevare sua madre dal letto per cambiarla. Ad agevolare la scelta del ricovero presso Villa Rosanna era stata anche la stessa Sara che si fidava di quella struttura. Lei stessa aveva chiesto ai suoi parenti di portarla lì perché a casa si annoiava mentre in quel luogo avrebbe potuto avere la compagnia di altri anziani. Non sarebbe più rimasta sola, sarebbe potuta uscire a fare una passeggiata, non sarebbe più stata di peso per nessuno. Ecco perché la signora Sara era finita in quella casa di riposo infernale. Una volta entrata nella struttura la donna si era ritrovata in una situazione che l'aveva piegata. Non riusciva a reagire anche a causa della sua condizione di salute e dunque era costretta a subire le peggiori violenze. Sara veniva segregata nella sua stanza giorno e notte per punizione. Non doveva vedere nessuno e non poteva avere alcun contatto con gli altri anziani. In pratica non poteva coltivare una vita sociale. Questo comportamento ingiusto perpetrato verso una signora di 90 anni che non può neanche muoversi è aberrante. Ecco perché si contesta il reato di sequestro di persona. Sara era così terrorizzata dai suoi torturatori che non si confidava neanche con sua figlia. Quest'ultima infatti non aveva la benché minima idea di cosa stesse succedendo ma un giorno aveva notato qualcosa che non tornava. La mano di sua madre era gonfia. Di fronte alla richiesta di spiegazioni la risposta si concretizzava in un necessario ma semplice prelievo di sangue. La figlia di Sara però cominciava a notare che sua madre era sempre sporca. Non aveva mai indosso dei vestiti puliti. Anche in questo caso la giustificazione era pronta. La signora non riusciva a mangiare bene. Si sbavava addosso ecco perché i suoi abiti erano macchiati. La mia domanda a questo punto è ok farla mangiare risultava difficoltoso ma perché non le venivano cambiati i vestiti? Inoltre emergerà che la signora Sara non rifiutava il cibo senza una ragione ma quello che le veniva servito lasciava molto a desiderare in quanto veniva frullato con frutta e medicine. Bastava annusarlo per provare disgusto. Quindi a volte la signora Sara si sporcava perché faticava a ingerirlo. Le venivano iconati di vomito. In un'altra occasione la figlia della signora Sara si era accorta che la madre indossava un paio di pantaloni logo ristracciati quindi aveva chiesto a un'operatrice di procurarne dei nuovi. Si sarebbe occupata lei di cambiare sua mamma. L'operatrice aveva però risposto che era suo compito provvedere alla paziente e promise di farlo. Tuttavia il figlio di Sara racconta che a Natale era andato a prendere sua madre per farle trascorrere la giornata in famiglia ma appena l'ha presa per metterla in macchina ha sentito un odore disgustoso. Una volta a casa ha scoperto che la donna era completamente sporca. Si era fatta i suoi bisogni addosso e neanche l'avevano pulita prima che lasciasse la pensione per Natale. Così i familiari hanno passato il 25 dicembre a pulirla e Sara nonostante stesse male era tanto felice perché poteva finalmente stare con la sua famiglia. Quel giorno come per miracolo non le toccava di essere rinchiusa in una stanza isolata da tutti gli altri. Da quando Sara viene riportata alla casa di riposo è sempre scontenta. Implora di poter tornare a casa dalla sua famiglia. Non vuole neanche andare in un'altra struttura desidera soltanto stare con i suoi figli ma ormai sono passati diversi anni. La famiglia si è organizzata facendo affidamento alla struttura e dunque non saprebbe come prendersi cura della donna adeguatamente. Certo i parenti di Sara non immaginano neanche lontanamente ciò che le succede in quella prigione mascherata dal luogo d'accoglienza. Non hanno idea che la propria madre o nonna venga maltrattata in quella maniera perché lei ancora non racconta nulla. In ogni caso ormai per accudire la signora occorrono due persone impiegate H24 perché lei ha un'invalidità al 100%. Nonostante le situazioni inadatte in cui i parenti hanno spesso trovato Sara durante le visite gli imputati la slegavano e tentavano di renderla presentabile prima di portarla nel salone comune. Proprio quelle persone che avrebbero dovuto avere cura di lei la minacciavano e manipolavano approfittando della sua fragilità. Prima del Natale del 2017 anche la nipote della signora Sara viene trattata in malo modo. Come racconta ogni volta che andava a trovare sua nonna le portava un pensierino. Quella sera quando era arrivata l'aveva trovata nella sala comune e sedeva sul divano con a fianco l'operatrice Maria Antonietta Rizzo. La nipote si accomoda accanto a loro dal pensierino alla nonna poi nota che Sara è un po' scollata. Le chiede come mai stia così scoperta e se avesse freddo. La nonna non risponde. Allora sua nipote le dice adesso scendo e ti compro una bella sciarpa così ti copri. A questo punto Maria Antonietta si alza e va a chiamare Rosanna Galatioto. Le due rientrano insieme nella sala comune e la vice direttrice inizia a urlare contro la nipote di Sara. Tu sei venuta a rovinarmi non sei come tua nonna sei venuta a rovinarmi tua nonna mi maledice dalla mattina alla sera. Ha maledetto anche me e i miei figli. La nipote di Sara resta pietrificata cerca di mantenere la calma e chiede spiegazioni. Allora Rosanna le dice che con quella sciarpa che le avrebbe comprato sua nonna si sarebbe strozzata dunque l'avrebbe portata alla rovina. La ragazza perplessa risponde Rosanna se tu credi in Dio non devi credere nel male perché nella vita vince sempre il bene. Il signore è sempre più forte. Tu non devi morire per mia nonna. Dammi le sue cose e io la porto a casa anche adesso. Come abbiamo fatto in vent'anni con la malattia di nonna troveremo una soluzione. A questo punto nella discussione interviene Matteo Cerni e dice alla nipote di Sara che non può assolutamente portare a casa sua nonna in quanto non ha lei la custodia che invece è stata assegnata alla figlia e al genero di Sara. Ma la prima in questo momento si trova in ospedale mentre il secondo ha 75 anni dunque è improbabile che riesca a prendersi cura dell'anziana in quelle condizioni. Da questo momento in poi la signora Sara non vede più sua nipote che si rifiuta di tornare nella struttura ed essere trattata in quel modo ma non rimane zitta. Il giorno dopo chiama suo padre e gli dice che presume perché non può esserne sicura che la nonna rimanga chiusa in una stanza da sola tutto il giorno. L'uomo quindi decide di vestirsi e di recarsi presso la struttura per chiarire la situazione col direttore Matteo Cerni il quale lo tranquillizza dicendogli ma no signore lo facciamo con tutti appena fanno i capricci li mettiamo un po' in disparte è un pensiero che ha avuto sua figlia stia tranquillo che qui si sta bene. Quello che vi ho raccontato fin qui è lo sfogo dei parenti di Sara Labita che secondo la difesa forse esagerano nelle ricostruzioni perché sono spinti dai propri sensi di colpa in quanto non si erano accorti delle reali condizioni in cui viveva la mamma o nonna. L'accusa invece sostiene che a Villa Rosanna la signora Sara veniva sia maltrattata sia avvessata psicologicamente. Le dicevano che era una strega che faceva la fattucchiera sostenevano addirittura che avesse fatto morire un figlio sotto un treno per poi dare il suo nome al figlio nato successivamente. In realtà la signora Sara aveva vissuto una tragedia perché suo figlio di tre anni era davvero morto sotto un treno. Suo genere inoltre aveva un tumore incolpavano quella povera donna della sua malattia. Insomma la facevano sentire un mostro le dicevano che non aveva un cuore. Spesso Marianna Rizzo prima di andar via a turno concluso passava a salutare chi si occupava di Sara e poi dava un calcio a quest'ultima senza alcun motivo. Quando Sara rifiutava quel cibo disgustoso per convincerla a inghiottirlo le tiravano i capelli oppure le davano delle sberle. Le telecamere controllate dalla polizia offrono prove sufficienti nei maltrattamenti che avvengono in quella casa di riposo. I carabinieri effettuano un blitz e come detto gli imputati vengono incriminati e arrestati. Vi ricordo che nel caso della signora Sara viene contestato anche il reato di sequestro di persona dato che secondo l'accusa la legavano senza motivo tutto il giorno mentre secondo la difesa per questo reato non ci sono elementi di prova sufficienti. Sara veniva immobilizzata perché chi doveva prendersi cura di lei la riteneva pericolosa visto che in altre occasioni aveva praticato atti di autolesionismo. In verità l'unico episodio raccontato in modo esplicito a testimonianza di questa tese risale a una notte in cui Sara si suppone stava cercando di ingoiare l'ovatta presente all'interno del cuscino. Dunque per la difesa non si configura il reato di sequestro di persona in quanto la signora Sara l'abita veniva legata per evitare che si togliesse la vita. La difesa sottolinea che la signora non era semplice da gestire aveva un carattere sgradevole parlava continuamente di morti di diavoli di cadaveri. Di colpo la descrizione di questa anziana e innocua signora cambia perché viene dipinta come una persona verbalmente aggressiva nei confronti di tutti in quella struttura. Questo mi fa pensare che prima di chiudersi a riccio e non parlare più Sara abbia provato a difendersi o quantomeno a far valere i suoi diritti. In alcuni atti mi emetteva ancora dei lamenti, aveva lo sguardo spento e perso nel vuoto. Ma la difesa con un ardire fantasioso chiede addirittura alle operatrici testimoni se Sara fosse aggressiva fisicamente. Forse hanno dimenticato che era perennemente legata? Non a caso le risposte sono tutte uguali, ossia no, mai. Dall'altro versante l'accusa insiste che al di là di ogni valutazione e suggestione subentrata nel processo è emersa la prova che Sara l'abita veniva maltrattata e picchiata. Infatti vari operatrici sostengono che la donna riportava numerose chimosi sulle gambe che neanche avevano il tempo di guarire perché i lividi non le erano mai spariti. Questo vuol dire che la signora veniva maltrattata e aggredita fisicamente ogni giorno o quasi. Quando Sara era poi riuscita a parlare con le autorità non aveva spiegato esattamente chi l'avesse colpita, ma indicava varie parti del corpo dove appunto erano presenti le chimosi e faceva dei segni per alludere alle botte ricevute. Gli imputati infatti vi ricordo che sono anche accusati del reato di tortura. Questo viene individuato in un unico comportamento giudicato però come particolarmente disumano e degradante. Avvenuto il 18 novembre 2017 e materialmente commesso da Anna Maria Bosco e Marianna Rizzo. Una mattina alle otto circa la stanza della signora Sara Labita era stata pulita da poco ma Marianna Rizzo si accorge che la donna ha sputato per terra. Marianna fa notare la cosa all'anziana la quale nega dicendo che erano state le operatrici a non pulire la stanza. Allora Marianna Rizzo e Anna Maria Bosco che ritengono inaccettabile questo comportamento aggrediscono Sara. La buttano per terra e la usano come straccio umano trascinandola avanti e indietro per farle pulire il pavimento. Poi la picchiano. Quando giungono Matteo Cerni e Rosanna Galatioto a chiedere spiegazioni dicono ad Anna Maria Bosco e a Marianna Rizzo che hanno fatto bene. Questo episodio tra l'altro è ripreso dai video ma la difesa sostiene che non è vero che i video non dimostrano nulla se non che la signora Sara era stata delicatamente cambiata. Per questo motivo la difesa chiede l'assoluzione per tutti gli imputati dal reato di tortura. Tuttavia come detto la signora Sara Labita non era la sola a subire maltrattamenti in quella casa di riposo. Anche la signora Venere Veneroso veniva aggredita, picchiata e umiliata. La paziente aveva sicuramente le sue fragilità e i suoi problemi ma del resto è proprio per questo che la famiglia l'aveva affidata a una casa di riposo. La signora Venereoso prima di entrare nella struttura aveva subito un intervento chirurgico dunque era in convalescenza. Aveva solo e soltanto bisogno di cure e assistenza. Anche la sua famiglia aveva provato ad assumere una badante prima di ricoverarla ma le cose non erano andate come previsto quindi nel 2014 la signora era stata portata a Villa Rosanna. Chiariamo, è importante. La signora era in grado di camminare e parlare in maniera autonoma. In passato era stata la direttrice di una scuola elementare e aveva ancora un'intelligenza vivace. L'effettivo problema che presentava era una spiccata ipocondria che però si portava dietro da tutta la vita. Tuttavia da quando era entrata nella struttura la sua mania era peggiorata drasticamente fino a sviluppare un disturbo psicotico. Ma soprattutto nell'arco di tre anni i familiari avevano più volte riscontrato dei segni anomali sul suo corpo. Natalie Coppola sostiene che la signora era molto debole e veniva colpita con una spietatezza assurda. Spesso veniva schiaffeggiata e non riusciva a reagire ma se anche ci avesse provato l'avrebbero colpita ancora di più e in modi peggiori. La signora veneroso dunque riportava spesso dei lividi sul volto allora Matteo Cerni e Rosanna Galatiotto tenevano sempre a portata di mano un fondotinta di modo che se fossero arrivati dei parenti avrebbero potuto coprirle i lividi con il trucco. In un'occasione in particolare Matteo Cerni ha iniziato a colpire la signora al viso soltanto perché non voleva bere del latte accompagnato dal pane a colazione. Infine quel latte gliel'ha anche sbattuto in faccia. Infatti la donna subiva per cose soprattutto durante i pasti, colazione, pranzo e cena dunque. Spesso veniva alimentata forzatamente visto che il cibo preparato dalla casa di riposo era immangiabile. Matteo Cerni in persona aveva ficcato il cucchiaio in bocca alla signora con una tale violenza che le aveva ferito il palato e causato una fuoriuscita di sangue. La signora veneroso è rimasta traumatizzata dall'episodio tanto che ancora oggi nonostante mangi continua a ripetere di non avere la lingua o la bocca per nutrirsi. Anche il signor Giuseppe Albanese era un ospite autosufficiente ma aveva problemi di incontinenza. Spesso chiedeva di recarsi al bagno perché ne aveva la necessità ma non gli veniva permesso, anzi cominciarono a somministrargli gli modium che a lungo andare causa stitichezza. I suoi parenti sostengono che sì, Giuseppe porta il pannolone ma anche che nella casa di riposo in cui è stato spostato successivamente non ha gli stessi problemi e chissà come mai. Lì può andare in bagno quando gli pare, se non riesce in tempo fa i suoi bisogni nel pannolone ma di certo non viene imbottito di modium. Spesso a Villa Rosanna pensate lo incolpavano di farsi la pipì addosso di proposito per poi insultarlo e tra l'altro per dargli una punizione adeguata lo lavavano con l'acqua fredda. Viene alla luce l'episodio in cui Giuseppe voleva prendere delle caramelle presenti su un tavolo da pranzo all'interno di una scodellina ma Matteo Cerni si era scagliato su di lui e gli aveva tirato diversi pugni alla schiena. Inoltre Marianna Rizzo lo prendeva spesso a pidate, gli diceva cammina cosa è inutile. Di regola l'uomo doveva stare sempre seduto nella sala adibita ai pasti e se per caso si alzava per sgranchirsi le gambe veniva rimproverato e non solo. Sua figlia riferisce che all'inizio si ricava tutti i giorni a trovare il padre ma poi Matteo Cerni aveva iniziato a dirle che l'uomo si agitava troppo in sua presenza e che tanto lui non chiedeva di vederla. Così pian piano la donna aveva cominciato a fargli visita sempre meno senza avere la minima idea dei maltrattamenti subiti da Giuseppe. Infine risalta la vicenda di Marina Bonventre un'anziana di quasi 90 anni. Un giorno le era stato fatto un prelievo di sangue alla mano sinistra per controllare che tutti i valori fossero entro i limiti in presenza della nuora. Il giorno successivo la nuora e la figlia di Marina erano tornate alla casa di riposo per farle visita. A loro arrivo l'avevano trovata a letto coperta fino al collo. Quando la nuora si era avvicinata per spogliarla aveva visto con chiarezza che le mani e parte delle braccia della donna erano nere. Emersi poi che la signora aveva avuto bisogno urgente di una trasfusione. Perché? Perché Marina non mangiava. In realtà le davano del brodo di verdure ma niente di più. Inoltre non le permettevano di indossare la dentiera quindi non riusciva a masticare. La bocca di Marina era piena di piaghe ma non era stata curata. Ai parenti avevano comunicato che il medico personale della donna era stato chiamato più volte ma non si era mai presentato. Solo al termine di questo strazio vengono a sapere che in realtà il medico di famiglia non era mai stato contattato neanche una volta. Come nel caso di Giuseppe la signora Marina spesso chiedeva di essere accompagnata in bagno anche di notte. Ma Matteo Cerni le diceva che doveva imparare a trattenersi. Insomma non poteva mica andare a fare pipì quando voleva. Per ovviare a questo problema ascoltate bene iniziarono a somministrarle delle gocce di quetiapina affinché dormisse più profondamente. Ora questo farmaco è indicato nella terapia per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare. patologie che Marina non ha sia chiaro. Le medicine hanno un effetto devastante sulla sua salute. Marina inizia ad avere difficoltà a camminare fino a dover restare sulla sedia a rotelle. Le mettono il sondino per alimentarla forzatamente e anche il catetere finché la situazione si aggrava e sono costretti a portarla all'ospedale. I parenti della signora vengono avvisati e la nuora chiede subito all'infermiera perché sua suocera non apra gli occhi, non risponda, non reagisca agli stimoli. Beh, i risultati degli esami parlano chiaro. Il sangue di Marina evidenzia un sovradosaggio di quetiapina nel suo organismo e in effetti secondo l'accusa Matteo Cerni somministrava gli anziani più impegnativi dei medicinali senza alcun controllo medico. Era indifferente alla salute dei pazienti, gli interessava soltanto che in quella struttura tutto funzionasse almeno all'apparenza, che nessuno disturbasse la quiete della comunità. In generale quando i parenti andavano a trovare i propri familiari a Villa Rosanna non venivano mai lasciati soli con loro per evitare che gli anziani rivelassero di subire maltrattamenti e vessazioni. Erano riusciti a immergerli in un clima talmente ostile che alla fine avevano paura di parlare in qualsiasi momento luogo. A seguito del blitz avvenuto il 28 novembre 2017, quando i carabinieri arrestano tutti gli imputati, gli anziani ritrovano la parola come per incanto e spiegano cosa hanno subito. Il PM sostiene che le prove convengono tutte verso la piena responsabilità dei quattro imputati, ovvero il direttore Matteo Cerni, la compagna e vice direttrice Rosanna Galatioto e le due operatrici Anna Maria Bosco e Maria Antonietta Rizzo, detta Marianna. Chiede che tutti gli imputati vengano condannati a nove anni di reclusione, pena che il giudice assegnerà effettivamente a Matteo Cerni e Maria Antonietta Rizzo, detta Marianna. Anna Maria Bosco invece viene condannata a sette anni di detenzione. Infine, Rosanna Galatioto sceglie il rito abbreviato e viene condannata a sei anni di reclusione. Gli imputati ricorrono all'appello, tutte le pene vengono confermate tranne quella di Maria Antonietta Rizzo, ridotta a sei anni di prigionia. Nel frattempo Villa Rosanna ha riaperto con una gestione completamente rinnovata e direi meno male. Ragazzi, era davvero da tempo che cercavo un caso di questo tipo, ma le fonti non erano mai sufficienti. So che non è una novità sentire parlare di questi casi, no? Ma purtroppo queste cose accadono addirittura anche negli asili. Ma finalmente ho potuto portare sul canale una storia che secondo me è di una crudeltà davvero rara. Prendersela con degli anziani, così là con l'età, perché ricordiamo che erano novantenni, credo sia proprio da persone senza cuore, ma anche senza morale. Fatemi sapere quello che pensate di questo video qui sotto nei commenti, come al solito ci becchiamo nei commenti, perché ripeto, questo caso ci ho tenuto tanto a portarlo sul canale, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!